Un altro giorno, durante la confessione, io dissi apertamente a Don Luigi, io sono quel Gesù che doveva ritornare, è ritornato in me. Sono io e lo dico qui in confessione. Il buon sacerdote mi rispose, ma tutti lo siamo. E io ti rimando, Gesù ha proprio scelto il mio corpo per essere nuovamente presente al mondo in una persona, così come aveva promesso. Sono io. Una cosa detta così, in confessione, fu misericordiosamente perdonata dal buon Don Luigi, che conoscendomi non si scandalizzò, mi giudicò quel povero esaltato in buona fede che conosceva oramai da tempo. E mi assolse perché contro le deficienze della mente non si può infierire. Ebbene, questa mia, chiamiamola profezia, fatta lì, mentre mi confessavo, quindi nella massima coscienza, autocoscienza dello spirito che quando si confessa non mentisce, esprime la sua verità, aveva bisogno di una conferma che venisse dall'esterno. E così questo fu quanto accadde il mattino dopo. Io frequentavo le lodi tutte le mattine e subito dopo la messa delle nove. Essendo uno dei soliti, ero entrato nel gruppo di coloro che in un certo senso servivano la messa perché il mio ruolo era quello di presentarmi sull'altare e recitare la preghiera dei fedeli. Questo oramai accadeva da quasi un anno. Quello era il mio ruolo. Ebbene, il giorno dopo quella mia confessione, la persona che, la sacrestana che presiede agli incarichi, venne da me e ribaltò il mio programma. Disse che quel giorno lì io non dovevo leggere la preghiera dei fedeli, ma la parte che precede il Vangelo. E così mi toccò di leggere dall'altare quella parte del Vangelo in cui Gesù così si rivolge ai Suoi discepoli. Mi chiedete sempre chi io sia, ma io sono colui che aspettate. Sono io che vi parlo, che sono venuto. Insomma, io fui chiamato da Dio a entrare nella parte reale di un Gesù che ha ripetuto a tutti lì dall'altare le stesse cose che io avevo confessato il giorno prima a Don Luigi. Quando poi, dopo la messa, io mi sono presentato Don Luigi e gli ho fatto notare questa strana coincidenza, lui è rimasto così, stranito come tutte le volte che io gli ho fatto notare strane cose che accadono in questa chiesa, come quell'orologio che si era messo in movimento da solo, esattamente nove mesi e 16 giorni dopo, mentre io ero al nono giorno di digiuno e alla dodicesima più quattro comunioni con Gesù Cristo. Quindi anche questa volta alla mia dichiarazione sacra, fatta in confessione, Dio ha ritenuto di far seguire la stessa dichiarazione da parte di un individuo che si metteva nei panni di Gesù Cristo e ripeteva lì, dando reale voce a Gesù Cristo la dichiarazione di Gesù, sono io chi aspettavate.